È possibile annullare un ordine di un servizio Aruba solo se è nello stato in attesa di pagamento dalla propria area clienti. Se l'ordine da annullare è di un servizio o prodotto hosting di Aruba, accedi alla tua area clienti andando su managehosting.aruba.it e inserisci username del tipo 123456-aruba.it, la password e vai su accedi. Se l'ordine risulta in attesa di pagamento, si visualizza il pulsante annulla ordine. Cliccalo per procedere. Il sistema mostra il riepilogo dell'ordine e chiede conferma. Premi su annulla ordine per concludere. Se l'ordine da annullare è PEC, firma digitale, SPID, fatturazione elettronica o un altro servizio certificato, accedi alla tua area clienti andando su areaclientipec.aruba.it. Inserisci username del tipo 123456-aruba.it, la password e clicca su accedi. Premi gestisci in corrispondenza del servizio che vuoi annullare. Se l'ordine risulta in attesa di pagamento, si visualizza il pulsante annulla. Cliccalo per procedere. Il sistema mostra il riepilogo dell'ordine e chiede conferma di annullamento. Clicca su OK per concludere.